L'ok ufficiale di Invitalia ancora non c'è, ma la riconversione della ex Unilever di Pozzilli in P2P si farà. Di fatto è partita e quanto trapela da fonti attendibili in stretto contatto con i vertici aziendali, scattata a Roma nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, a seguito dell'incontro di questi ultimi con Invitalia. L'intesa sarebbe frutto dell'accettazione da parte di P2P di una quota minore di contributi a fondo perduto per la parte del progetto dedicata a ricerca e sviluppo. Rispetto ai 109 milioni dell'intero progetto, la parte finanziata con fondi privati resta del 25%, 27 milioni. Quello che cambia dunque è lo spostamento di quota parte del fondo perduto sul prestito agevolato. In sostanza sarebbe una riproposizione dello stesso accordo già approvato da Invitalia lo scorso aprile. A parità di numeri totali rimarrebbero invariati anche i livelli occupazionali e i volumi di produzione, 130 mila tonnellate di prodotto finito all'anno. Ma perché l'azienda ha accettato solo ora quanto già ottenuto sei mesi or sono? Sembra che ricalibrare il progetto buntando sull'economia circolare delle plastiche miste attraverso Enea avrebbe portato a maggiori finanziamenti a fondo perduto. Per un'azienda privata, aspettativa questa assolutamente legittima. Solo che ora, a quanto dicono tutte le parti coinvolte, dall'azienda ai lavoratori, non c'è più tempo. Intanto la fase tecnica finalizzata all'ottenimento delle autorizzazioni è già iniziata. Ne hanno notizia i sindacati. Nel momento in cui si accetta l'adeguamento significa che c'è stato un riscontro tra le parti e quindi la definizione di un percorso. L'avvio della procedura per l'acquisto degli impianti è la prima cosa da fare e quindi vediamo che cosa ci dirà l'azienda perché è i tempi che ci vorranno, se sono cambiati e se sono gli stessi che ci hanno sempre detti. Le prime risposte di P2P arriveranno dopodomani nell'incontro di lunedì 28 presso lo stabilimento di Pozzilli.